PILANTO Onorevole grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito, benvenuto nel Salento Grazie a lei, saluto a tutti gli ascoltatori Voglio dire, per un politico poter parlare alla televisione, chi deve ringraziare? Io a voi, mica voi a me Giusto, se la pensassero tutti come lei sarebbe un po' diverso insomma Senta, tutto proprio da buttare in questa manovra? Sì, tutto da buttare, certo Il concetto è questo, che quel che è di buono che può esserci viene rinviato Con legge costituzionale si interverrà sulle province, con legge costituzionale si ridurrà il numero dei parlamentari Anche il pareggio in bilancio Il pareggio in bilancio sarà fatto con legge costituzionale Però per intanto, siccome servono i soldi, si prendono dove si possono prendere subito subito Quindi sull'IVA, uno va al supermercato e sai che d'ora in poi paga pro quota una tassa in più Sugli enti locali, perché tanto bisogna fare un trasferimento Invece fare un trasferimento di 100 faccio un trasferimento di 40 o di 50 E quindi si stringe la cinchia all'assistenza, ai servizi locali, ai trasporti e quant'altro Insomma, che bisogna fare una manovra è vero Ma che si poteva fare in un modo diverso Noi dell'Italia dei Valori, lo abbiamo dimostrato perché l'abbiamo proposto Abbiamo proposto una contromanovra noi L'ora l'hanno fatta i 63 miliardi di euro, noi l'abbiamo fatta i 70 miliardi di euro Però prendendoli in tutt'altro modo Invece di comprare 15 cacciabombardieri per qualche miliardo di euro, circa 12 miliardi di euro Potevamo farne a meno di cacciabombardieri Perché noi dobbiamo andare a cacciare e a bombardare Ma speriamo nessuno, non so E però che le compriamo a fare Buttati via Invece di chiedere il contributo di solidarietà sull'iva Con quell'1% in più Si poteva fare un contributo del 20% A quelli che avevano fatto lo scudo fiscale Viste che avevano portato i soldi all'estero Uno se ce li aveva all'estero i soldi li poteva già riportare dall'Italia Non è che bisognava pagare la multa Quelli che non potevano riportarle E quelli che non potevano dirle dove li avevano presi E allora a questi qua Pur se pagavano un bel contributo Viste che non hanno pagato le tasse Almeno il 20% come i pensionati I pensionati pagano il 23% Lo si poteva pagare Insomma È una manovra che ancora una volta Deprime Il rilancio dell'economia Se la prende con le classi sociali più deboli E soprattutto è una manovra che È stata usata Anche per un qualcosa che non ci azzecca niente Direbbe il vecchio di Pietro Con I conti L'articolo 18 Lo statuto dei lavoratori Che l'hanno modificato a fare Non è che porta qualche soldo in più È solo un atto di vendetta Nei confronti al mondo del lavoro Che dice Vabbè Adesso l'anno 2010 in poi Questi diritti dei lavoratori Togliamoglieli E lasciamo decidere Ad libitum Quando licenziarle E come licenziarle Mi pare che sia Una cosa che non può essere accettata E per questo Noi dell'Italia e Valori Stiamo facendo l'opposizione vera Dentro e fuori il Parlamento E anche stiamo mobilitando i cittadini A raccogliere le firme Per un altro referendum Che va proprio sul problema Come si fa la legge elettorale Perché se cambia la legge elettorale I cittadini possono scegliere Chi manda a casa Sarebbe ora su questo Senta Anche sulle province Tutto un blef Ci vorranno vent'anni Guardi Non c'è niente di più Furbastro Che è quello di dire Siccome è una cosa importante Intervenire per razionalizzare le province Faccio una commissione Quando fai una commissione di studi È perché non vuoi risolvere il problema Per risolvere il problema Bastava inserire nella norma Che man mano che scadevano I mandati provinciali Non si facevano più Le nuove elezioni E le competenze passavano Quelle sovraccomunali Alla regione E quelle All'interno di un comune Al comune Non è che noi stiamo chiedendo di Eliminare i servizi provinciali Non è che noi stiamo chiedendo di Mandare a casa i dipendenti provinciali Noi stiamo chiedendo Di eliminare i costi e gli sprechi della politica Non solo Avere i consiglieri provinciali E avere un ufficio regionale Che fa le sue funzioni Non è che cambia granché Però Tutto questo costo della politica Cosa serve? Le faccio un altro esempio Lei sa che Ci sono 44 mila Consiglieri d'amministrazione Di società A partecipazione pubblica Capitale a partecipazione pubblica Cosa vuol dire? Che il comune, le province Fanno delle società Tipo SPA Però c'è il consiglio d'amministrazione Chi sono i membri Di consiglio d'amministrazione? Provate a domandarlo Guardatevi intorno Nelle vostre abitazioni Gli amici dei politici sono Sono tutti trombati O i trombati dell'elezione Sono i trombati Quando uno non sa più dove metterlo Te lo mette un consiglio d'amministrazione Oppure quelli che devi fare cambiare partito Devi pagare Devi comprare Devi fare Allora Sti 44 mila Noi abbiamo fatto una proposta Ma non è una proposta Mandatemi al governo a me Che nei primi 100 giorni lo faccio E invece i consigli di amministrazione L'amministratore è unico Uno Invece di fare i consigli di amministrazione Basta soltanto l'amministratore è uno Ne eliminiamo 40 mila Mi pare che sia una bella soluzione Io personalmente poi sono dell'idea Che molte società a capitale pubblico Devono essere eliminate Perché non hanno altra funzione Che quello di pagarsi i loro stipendi È un ufficio di ricollocamento Di ricollocamento politico Di trombati della politica Senta Lei ha fatto una battuta Che è assolutamente interessante Mandata a me al governo Che lo faccio nei primi 100 giorni Ci torniamo Perché le voglio fare questa provocazione Alfano ha detto Si può criticare o meno Ricandidiamo Berlusconi E il centrosinistra che fa invece? Il centrosinistra deve necessariamente Avere il coraggio e l'umiltà Di fare squadra Perché Quello non lo togli via Neanche con le cannonate Chi è quello? Quello si chiama Silvio Non lo togli via neanche con le cannonate Per un motivo molto semplice Io lo dico mille volte Quello non è andato lì Per un progetto politico Ma per un'esigenza personale Lui doveva scegliere Tra Montecitorio e San Vittore San Vittore per chi non lo conoscesse È un famoso carcere milanese Dove Insomma Ci vanno Molte persone Ma molte di quelli Che ci dovrebbero andare Non ci vanno Allora io non dico a San Vittore Ma lui doveva scegliere E ha scelto di Mettersi in politica Per farsi le leggi Per non farsi processare Quindi è una strategia processuale Lui che sta portando avanti Tutti i giorni Tant'è vero che noi Settimana prossima Saremo impegnati Non per risollevare il paese Ma per decidere Se Utilizzare Quale utilizzare Delle intercettazioni telefoniche Che le riguardano Che lui faceva qui Con gli amici pugliesi Ecco In una situazione di questo genere Io credo che Il centro-sinistra Chiamatelo come ti pare È una realtà Che si voglia occupare del paese Deve avere il coraggio E l'umiltà La responsabilità Di fare quadrato E di presentarsi in modo unitario E noi siamo disponibili a questo E siamo disponibili Anche a metterci in gioco Io personalmente Voglio che ci siano le primarie E nell'ambito delle primarie Intendo Presentarmi anch'io Perché ho capito come funziona E sono pur certo Che rispetto a certe urgenze Saprei individuarle meglio Rispetto a quelle che Le sta individuando il governo Berlusconi Certamente Non farei legge ad persona Quello che sta facendo lui Tutti i giorni Primarie del centro-sinistra Per esempio Candidati Bersani Di Pietro E Vendola Fra lei e Vendola Chi è più forte? Come? Fra lei e Vendola Ma io credo che sia Due realtà Che si possono Veramente Essere Come si può dire Fare da complemento Insieme Perché dobbiamo Metterci l'uno contro l'altro? Io sono convinto Che La capacità di Ascolto Chi ha Vendola La Determinazione Che credo di avere io Un partito Organizzato Importante Come il PD Che sta dietro A Bersani Debbano avere il dovere Di trovare un punto di incontro Più che di scontro E l'Udc? L'Udc vede Non c'è azzecca In questo non c'è azzecca Il concetto è sempre quello Io non ho nulla Di Di personale contro nessuno Ma Lei Lei è sposato? Sì Da poco Ma quando si è sposato Gliel'hai chiesto o no? Beh sì Mi sembra un atto dovuto E' chiaro? Allora A quelli Gliel'hai chiesto o no? Quelli ti hanno detto sì o no? Per sposarsi Bisogna essere in due Per fare un'alleanza Tra il centro-sinistra E il terzo polo Bisogna essere in due Quelli hanno già detto Che si chiamano Terzo polo Se è terzo Vuol dire che non è secondo E non è primo Vuol dire che è un altro polo Vuol dire che non si vuole sposare Quindi è inutile che tu Dici che ti vuoi sposare Con tua moglie Se quella non ti vuole sposare Però dico io Proprio perché ci offresco il concetto Come ho detto poc'anzi Dico c'è prima la fase del corteggiamento Ma torna a ripetere Quelli hanno già detto Che non ci vogliono stare L'hanno già detto Neanche fidanzati Ma abbi pazienza Quelli hanno già detto Che loro per mestiere Loro stanno Con chi offre di più Loro vogliono Un meccanismo Come dicevo processuale Ma non sbagliavo Un meccanismo elettorale Con cui Vogliono il voto degli elettori Vogliono andare in Parlamento E poi vogliono decidere Se sposarsi Con la bionda o col bruno Mettersi col centro-sinistra Col centro-destra A seconda A chi gli offre di più Se Qualcuno avesse detto a lei Posso sposarmi a lei Ma posso sposarmi a un altro Che avrebbe detto Senti Se fai il mestiere più vecchio al mondo Io non te sposo Sì su questo ci troviamo d'accordo Perché non vuol dire Che sposi la sua idea politica Però Tradotto Sì traduciamo Il tradotto Il terzo polo Andrà da solo Proprio perché si chiama terzo polo Io non ho nulla Contro quelli che vogliono fare Squadra con me Ma è inutile che Corro appresso a chi Invece Non vuole fare squadra con me Per portare avanti Lo stesso progetto politico Ma ha scelto la politica Come un momento Di sistemazione personale E come tale Disposto a stare In una squadra Piuttosto che in un'altra Con Saddam E contro Saddam Non si può Bisogna fare delle scelte di campo Io personalmente sono Una persona che Vengo da un'esperienza Moderata Cattolica Liberale E che nello stesso tempo Ritengo che le libertà Si devono sposare Con la solidarietà Ma perché Lo diceva Gesù Cristo Non è perché Lo diceva Marx E in questo senso Io ritengo che Una coalizione di centrosinistra Che riesca a mettere insieme Che si occupi innanzitutto Delle fasce sociali più deboli Perché quelle più forti Lo trova il medico giusto Lo trova La scuola privata giusta Lo trova Il posto Sull'aereo Trova sempre qualche cosa Quella che C'ha le possibilità Io credo che Quindi Questa idea Di mettere insieme Libertà e solidarietà Debba tradursi In un'azione politica Del fare E in questo senso Io sono convinto Che possiamo farcela La prima cosa da fare Però torno a ripetere Bisogna stabilire Delle regole Che la politica Non può essere un mestiere Per sistemare se stessi Ma deve essere un servizio E per questa ragione Io Insisto Primo I condannati Non devono essere candidati Secondo Quelli sotto processo Prima si fanno processare E poi vanno a amministrare La cosa pubblica Terzo Prima Prima